La situazione che vivono i bambini di Padova è veramente disarmante, i medici lo stesso, gli infiamieri lo stesso, i familiari lo stesso e quindi se io mi do tutta la disponibilità a poter aiutare per costruire la pediatria. Questa la proposta fatta ai nostri microfoni da Franco Masello, presidenza della Fondazione Città della Speranza, a novembre. Era pronto, come già fatto per onco e metodologia pediatrica, a finanziare i lavori per lo spostamento di pediatria a pneumologia. Da allora nulla si è mosso, la politica non decide, è inerte. Non solo manca la firma di Bitonci che avrebbe permesso quantomeno l'avvio dei lavori del nuovo ospedale, ma anche in casi di massima urgenza, come questo, chi doveva decidere non ha deciso. Eppure c'era sul piatto una proposta concreta. Vi abbiamo raccontato di pediatria a Padova, purtroppo non è l'unica emergenza. Anche onco e metodologia, reparto d'eccellenza dell'azienda ospedaliera di Padova, che esegue ogni anno 270 nuove diagnosi e per cui in passato è stato fondamentale il contributo di Città della Speranza, ora è in estrema difficoltà. La struttura prende in cura casi da tutta Italia e gli spazi non sono più adeguati. Manca personale e non c'è posto per i letti dei piccoli pazienti, tanto che chi ci lavora dentro parla della necessità di posizionare dei letti a castello, una situazione inaccettabile. La politica padovana, tutta, è chiamata ad un atto di irresponsabilità. Ritardare ulteriormente, a nostro avviso, sarebbe un peccato imperdonabile. Noi di Rete Veneta continueremo a parlare e a affrontare questi problemi, fino a quando non arriverà una risposta seria e concreta per i piccoli pazienti.